Don Michele Palmeri, parroco di Nocera Terinese, si rinnova anche quest'anno il rito dei vattienti durante la processione del Venerdì Santo. Ogni anno rinnoviamo questo mistero, il mistero di morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, rinnoviamo nella fede ciò che il Signore ha compiuto per la nostra salvezza. E in questa splendida serata ci siamo messi in cammino insieme alla Vergine Maria, alla Vergine addolorata, per ripercorrere tutte le tappe salienti che Gesù ha compiuto, prima di stendere le sue braccia sulla croce, sul legno della croce, l'albero della vita per noi cristiani. Quindi è bello camminare insieme nel nome del Signore nostro Gesù Cristo per poter vivere intensamente questo triduo pasquale. Ormai siamo entrati con la celebrazione di ieri sera della messa in Genna Domini, siamo entrati nel triduo pasquale. Quindi si è concluso il tempo di quaresima, il tempo di preparazione, di attesa per entrare così in questo grande mistero di nostro Signore Gesù Cristo, cioè la sua manifestazione che segna il compimento del mistero della nostra redenzione e del perdono di tutti i nostri peccati. Grazie. 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 Grazie.